Presidente della Juventus? Come vedrebbe Del Piero presidente della Juve? Presidente della Juventus? Del Piero potrebbe fare qualsiasi cosa nella Juventus, è stato uno dei più grandi calciatori che la Juventus ha avuto, perciò se alla Juventus decideranno di affidargli qualche ruolo, qualsiasi sia, sarò felice per lui. Un ricordo a distanza di qualche mese di un suo calciatore molto importante, che non c'è più, Luca Vialli. Grande Luca, è stato un giocatore molto importante per me, un personaggio molto forte come calciatore, ma soprattutto come uomo, perciò averlo perso è un dispiacere enorme. Grazie. Grazie. Grazie.